Cos'è l'effetto placebo? Come impatta sulla ricerca medica e soprattutto sull'attività clinica, sul rapporto tra medico e paziente? L'abbiamo chiesto un vero esperto, il professor Fabrizio Benedetti, che abbiamo incontrato qui a Milano in occasione della seconda edizione del congresso nazionale guida. Professor Benedetti, innanzitutto che cos'è esattamente l'effetto placebo di cui si sente tanto parlare, ci dà una definizione? L'effetto placebo, quando studiamo l'effetto placebo noi studiamo fondamentalmente il contesto psicosociale intorno al trattamento, intorno al paziente e tutto quello che va sotto il nome di componente psicologica di una terapia, quindi quando per esempio si somministra un farmaco oppure un trattamento non farmacologico c'è l'effetto specifico del farmaco, per esempio di un antidolorifico, ma c'è anche la componente psicologica che consiste fondamentalmente nell'alleanza terapeutica, cioè nella relazione fra il terapeuta, non necessariamente il medico, il terapeuta in generale, tutto il personale sanitario e il paziente. La componente psicologica è fondamentalmente composta dalla fiducia, dall'aspettativa di guarigione o di miglioramento clinico e tutto questo mette il cervello in un determinato stato, che può produrre degli effetti positivi. Ecco tutto questo noi lo chiamiamo effetto placebo, risposta placebo, cioè la risposta psicologica a una determinata terapia. Quindi la risposta alla terapia ha due componenti, una, se ho capito bene, una legata alla terapia stessa e una legata a quello che ci stava dicendo lei, la componente psicologica. È così professore? Esattamente, cioè ci sono due aspetti di una terapia, che sia farmacologica o non farmacologica, c'è un effetto specifico e poi c'è un effetto, molti lo chiamano a specifico, però sarebbe meglio chiamarlo effetto psicologico, in cui appunto l'alleanza terapeutica, la relazione medico-paziente gioca un ruolo fondamentale. Il risultato globale, quindi il miglioramento, è dovuto sia alla componente specifica, quando il farmaco è efficace ovviamente, e alla componente psicologica. Come si fa a misurare l'effetto placebo, quindi la componente psicologica della terapia? Ci sono dei modi, quali sono professore? Dunque, per misurare l'effetto placebo fondamentalmente si fa la differenza fra due gruppi di pazienti, un gruppo di pazienti che riceve il trattamento placebo, quindi trattamento finto, e il gruppo che invece non riceve nessun trattamento, e quindi quello che noi chiamiamo storia naturale, per esempio nell'ambito del dolore, il decorso naturale del dolore. La differenza fra il gruppo che non ha ricevuto nessun trattamento e il gruppo che ha ricevuto il placebo è la componente psicologica, cioè l'effetto placebo. E con il gruppo che riceve la componente psicologica si somministra una compressa formata da sostanze inerte, come potrebbe essere lo zucchero o qualcosa del genere, è così professore? In farmacologia si usa una compressa con una sostanza inerte, nei trattamenti non farmacologici invece si fa finta, possiamo proprio dire così nel vero senso della parola, si fa finta di fare una terapia, per esempio una macchina ultrasuoni spenta che il paziente crede sia accesa. Non si somministra generalmente zucchero in farmacologia con un placebo, si somministra invece o del talco generalmente, oppure della farina perché sono inodori e in sapori, per cui il paziente non si rende conto di quello che sta ricevendo. Insomma lo inganniamo per capire appunto quanto lui si fa ingannare in fondo dal cervello. Perché è importante misurare l'effetto placebo, professore? L'effetto placebo è importante in due ambiti, nell'ambito della ricerca clinica per la validazione di una nuova terapia. Se una terapia supera come risultato terapeutico, come miglioramento clinico, supera una terapia finta, cioè una terapia placebo, si dice che la terapia è efficace. Se invece non c'è nessuna differenza ovviamente vuol dire che la componente psicologica è quella che gioca il ruolo cruciale. L'altro ambito in cui è importante misurare l'effetto placebo invece in ambito della routine, nella routine clinica, bisogna potenziare l'effetto placebo, quindi fondamentalmente bisogna potenziare l'alleanza terapeutica, la relazione medico-paziente proprio per aumentare la componente psicologica. Nella routine clinica vogliamo potenziare l'effetto placebo, nei trial clinici vogliamo ridurre l'effetto placebo in modo da evidenziare meglio gli effetti specifici di un trattamento, per esempio di un farmaco. Ecco, l'effetto placebo ha una sua spiegazione neurofisiologica, professore, cioè cosa scatta nel nostro cervello quando riceviamo la compressa di talco? Cosa succede sulla base della convinzione invece che c'è una compressa di un farmaco attivo? Allora il paziente entra in uno stato di aspettativa, anticipa il beneficio terapeutico e oggi abbiamo imparato dal punto di vista neuroscientifico, cioè in altre parole cosa succede nel cervello come diceva lei del paziente, che si aspetta un beneficio terapeutico, che il cervello comincia a produrre, oggi conosciamo almeno due sostanze che chiamiamo sostanze opioidi, che sono simili all'oppio e sostanze cannabinoidi, che sono simili alla cannabis. Quindi il nostro cervello è in grado di produrre una vera e propria farmacia, se vogliamo chiamarla così, naturale, che in qualche modo entra in gioco nel momento in cui c'è questa grossa componente psicologica che fondamentalmente è l'aspettarsi un beneficio terapeutico. Ecco, si può sfruttare in terapia l'effetto placebo? Ci sono delle situazioni in cui il medico sa benissimo che non sta dando al paziente un farmaco efficace, un principio attivo efficace, però ritiene che sia giusto procedere così. Ecco, ci sono delle situazioni di questo genere, professore? Ci sono delle situazioni dove è possibile sfruttare questo effetto placebo, questo effetto psicologico e sono fondamentalmente due. Uno è abbastanza ovvio, cioè è quello fondamentalmente di potenziare la relazione medico-paziente, quindi potenziare la componente psicologica. L'altro invece è creare dei protocolli, e molti lo stanno facendo in tutto il mondo, creare dei protocolli dove si dà farmaco, 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 placebo, poi farmaco, farmaco, placebo, placebo e così via, alla lunga si può ridurre l'effetto e soprattutto l'assunzione di un farmaco che ha determinati effetti collaterali, per esempio. È importante però sapere di cosa stiamo parlando esattamente. Cioè, se parliamo di dolore, la componente psicologica nel dolore è cruciale, quindi l'effetto placebo funziona bene, ma se parliamo di altri ambiti invece l'effetto placebo, la componente psicologica non c'è per niente. Faccio solo un esempio. Se noi diamo un antibiotico placebo, un antibiotico finto a un paziente che ha una polmonite, beh, sicuramente muore di polmonite. Quindi l'effetto placebo vale e ha senso nelle malattie psicosomatiche, professore. Così? Possiamo fare questa semplificazione? Sì, nelle malattie psicosomatiche io generalizzerei molto di più in tutte quelle situazioni in cui la componente psicologica gioca un ruolo fondamentale. Quindi malattie psichiatriche, ansia, depressione, dolore, performance motoria, per esempio nei disordini del movimento come la malattia di Parkinson, e tutte quelle situazioni in cui la componente psicologica gioca un ruolo fondamentale. Ecco, non come anti-cancro, non come anti-Alzheimer, non come anti-patologie completamente diverse. È così? Come ho detto prima per l'antibiotico, questo vale anche in ambito oncologico. Non c'è nessuna prova dimostrata oggi dal punto di vista scientifico che la somministrazione di un placebo, quindi la relazione medico-paziente, fra oncologo e paziente in qualche modo riduca la crescita tumorale. Faccio un altro esempio che in genere è il mio preferito perché fa capire molto bene. è anche il più divertente, se noi diamo un anticoncezionale placebo è ad alto rischio e la donna rimane incinta sicuramente, il che vuol dire che a volte la componente psicologica non c'entra nulla.